Cioppino, tu non stai bene, Cioppino. Cioè, Cioppino, tu non stai bene. Certo dei coordinatori. Sì, sì, quello. Risulta? Responsabilità tattica? Ma ti pare che adesso devo fermare un briefing per questa cosa? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Mentre controllate, devo dire una cosa. Scusate l'interruzione, ma dato che vi amo tutti e devo dirvelo sto mio segreto. Quando esco di servizio vado nei locali e faccio la drag queen in arte e baldona una porcona. Era da tanto che volevo dirvelo e mi sembra un'ottima idea farlo adesso. Grazie per aver reso conto. Adesso sappiamo l'altra medaglia tua. Perfetto. Grazie. Gigi a seconda notte. Gigi. A posto. Grazie, Bolzo, per esserti aperto con noi. È detto così. Dopo ti apro io, non ti preoccupare, alla fine del briefing. E uno ci prova a fare le cose fatte. Anche io. Eh, lo so, lo so. Lo so che non è direttamente colpa tua. Dopo andrò a vedere chi è stato e se uno di quelli qua dentro... Poi vediamo. Cioppino, ti piace il taglio di capelli di hondo? Cioppino? Staccati un attimo dagli occhietti di bolso. Che la rita... No, no, no. No, dici, ti piace il taglio di capelli di hondo? No, c'è freddo ultimamente, quindi il mio taglio va più che bene. Vabbè, io avevo promesso niente autovelox, però purtroppo... No, no. No, 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 no.